Ragazzi buongiorno, oggi è sabato 12 agosto e iniziano le nostre ferie Siamo in Francia, iniziano ufficialmente le nostre ferie Ovviamente in moto, direzione Irlanda Allora, cosa vuoi? Com'è questo dolcetto? Buonità? Buono Buono? Ragazzi, parcheggio vista moto, moto è qui fuori Siamo in Francia Oggi è il primo giorno, una tappa ovviamente lunga di trasferimento Prima notte la faremo a... L'Hangres L'Hangres, esattamente Abbiamo una struttura dove ci dovrebbe attendere anche una fantastica piscina Speriamo di arrivare in tempo per goderci a almeno alcune ore dopo di che andremo a fare Sì, dopo di che si esce Faremo anche un giro per la città Abbiamo fatto una piccola sosta al Burgos La nostra solita tappa a baretto Tappa a baretto E' comodissimo perché è proprio lungo la strada che stiamo percorrendo E questo è il GS Che ci scarrozzerà Siamo partiti questa mattina Che erano le 6 circa Abbiamo sofferto tutto lungo il viaggio Tranne che il caldo Il caldo non l'abbiamo sofferto minimamente 15 gradi si viaggiava Adesso facciamo benzina e si prosegue E visto che si è fatta una certa Guardate come siamo attrezzati Tavolino Moto E questa è la N19 Che tra 50 km ci porterà A destinazione dove abbiamo la struttura Adesso ci iniziamo a attrezzare il pranzo Pranzo a bordo Panini Via Via Dai Siamo arrivati a Langres Da lontano si vede Da Langres Su una collina E' un borgo molto carino Ci deve essere un castello Che da lontano si vede Una chiesa Una basilica Qualcosa Che poi vedremo meglio Con un tetto dorato Siamo arrivati alla struttura E dopo una giornata Al 32-33 gradi Per il futuro E tra un po' di vento Il vento che c'è anche qui Questa è la reception Qui c'è un piccolo giardinetto E qui c'è la piscina Cinzia neanche a dirla E' già dentro la piscina L'acqua è fresca Ma ci sta Chi sta meglio di Cinzia E poi ha pure il collaggio Di lamentarsi Capite Abbiamo fatto circa 650 km A questo punto Vi diamo appuntamento a domani Perché adesso ci vediamo La piscina E poi ci facciamo un giro Per Langres Ciao